Piazza San Pietro Piazza San Pietro Il Papa comincerà la cerimonia di gratificazione di questo grande Papa che ci ha ribadito la gioia dell'essere cristiani ed è stato il Papa della libertà, il Santo della libertà, Giovanni Paolo II, il Santo della libertà. Grazie a tutti i pellegrini raccolti qui in Piazza San Pietro, nelle strade adiacenti e in diversi altri luoghi di Roma. La sua grande passione per Cristo e per l'uomo perché potessero incontrare colui che la poteva rendere veramente uomo. Ne valeva la pena, credo che nessuno di noi si sia pentito di essere venuto, non ho sentito un mezzo lamento intorno a me, anzi ho sentito grande raccoglimento, grandissimo silenzio nei momenti in cui bisognava fare silenzio, grandissima partecipazione e gioia quando la gioia potrebbe esplodere.